Sono Massimo Minchio e collaboro con lo studio di Matteo da circa quattro anni in particolar modo ho potuto contribuire al progetto di Pink Sea the Whale il progetto è partito da un semplice disegno di Matteo che dopo è stato mio compito trasformare in un toolkit creativo è stato sfidante tentare di interpretare le forme sinuose e quasi materne del modello in plastica per trasformarlo in un kit di carta che fosse super semplice da montare per i bambini per dare loro la possibilità di concentrarsi solamente sulla parte creativa e non avere complicazioni dal punto di vista del montaggio infatti da montare è molto semplice è sufficiente staccarlo fare una leggera pressione sulle pieghe unire la coda e la balena è montata questo progetto offre la possibilità ai bambini di personalizzare la balena coi colori disegnando facce simpatiche o quant'altro perché appunto l'obiettivo del progetto era raccontare e celebrare quanto sia bella la diversità e la personalità di ognuno questo kit è un kit che permette ad ogni bambino di esprimersi grazie a tutti grazie a tutti